Effetto Notte dedica la nuova puntata alle icone di fascino e di bellezza di ieri e di oggi. Ospiti di Fabio Falzone, Stefano Accorsi, tornato al cinema quasi irriconoscibile nel film Veloce come il vento. E poi omaggio ad Alain Delon, il vivo francese dagli occhi di ghiaccio. A Monica Bellucci, la viva italiana più famosa all'estero. E infine a Luca Zingaretti, il mitico Montalbano. Effetto Notte venerdì alle 23.35 e domenica alle 22.20.